Ciao ragazzi del web, siamo in Indonesia, in Jakarta. Abbiamo trovato un po' di gente simpatica in strada, sono molto cordiali, ospitali. Qui abbiamo anche l'uomino che dirige il traffico e qua è due ore che lo sto osservando, che sta dirigendo il traffico. Io non so chi è che lo fa fare a dirigere il traffico, non è che nessuno gli dia qualche cosa, proprio lì si vede che... ah no, gli hanno dato una molettina, una molettina gliel'hanno data. Fate conto che qua con un salvadanaio pieno di molettine non ci comprate neanche una bottiglietta d'acqua, dirigiamolo al traffico, questo poi fanno otto ore per uno, questo lo sostituisce. Eccoci qua, questo è il traffico di Jakarta.